Al momento niente bonus di Natale, parla l'assessore comunale alle politiche sociali Cettinan da loro. Caltanissetta ruba una sedia a rotelle, denunciato un giovane. Gela, sgomberato un bene confiscato con l'intervento delle forze dell'ordine. Antologia Reporter, Italia Croazia, 16 novembre 1994, giovedì sera alle ore 21 su TFN. Non ci sarebbero al momento in programma nuovi bonus economici da erogare in prossimità delle festività natalizie. Il comune nisseno però si riserva a distanziare le misure necessarie qualora dovessero arrivare i fondi, così come spiega l'assessore alle politiche sociali Cettinan da loro. Un aiuto economico, una tantum atteso però da numerose famiglie del territorio, soprattutto in vista dei giorni di festa. Rimangono intanto sempre attivi servizi di sostegno, come ad esempio il contributo per gli affitti garantiti dalle politiche sociali. Come sostegno che c'è stato sempre, le politiche sociali hanno messo a disposizione, c'è una domandina da fare per chiedere un aiuto economico. Ma quello c'è stato sempre, l'abbiamo sempre fatto. Al momento purtroppo, anzi chiariamo questo aspetto, mi chiedono tutti se ci sarà il bonus che abbiamo dato negli anni precedenti, soprattutto a Pasqua e a Natale degli anni del 2021. Quest'anno non abbiamo avuto nessun finanziamento da parte, sostegno alla povertà da parte del Governo centrale. Se arrivano saremmo bellietti di darli. Le politiche sociali lì, fin dove possono, danno l'aiuto che c'è sempre stato. Aiuto, sostegno al reddito, bonus spesa, ma sono cose che ci sono sempre state. I precedenti bonus non hanno a che vedere con quello che abbiamo adesso. Ha rubato una sedia a rotelle dall'ospedale per non tornare a casa a piedi. Una vicenda singolare, ma che ha anche costata la denuncia per furto a un giovane nisseno di 24 anni. Quest'ultimo era stato accompagnato in precedenza all'ospedale Sant'Elia per essere medicato, in quanto aveva riportato delle ferite mentre era in stato di ubriachezza. Una volta che gli sono state praticate le cure del caso, ha pensato bene di impossessarsi di una delle sedie a rotelle custodite nella stanteria del pronto soccorso, utilizzate per il trasporto di pazienti che hanno difficoltà motorie e si è diretto verso la città per raggiungere la propria abitazione. Dell'accaduto si è accorto una guardia giurata che svolge il servizio d'ordine in ospedale e che ha subito allertato le forze dell'ordine. Immediatamente i poliziotti della questura si sono messi alla ricerca del giovane, il quale è stato intercettato poco dopo all'altezza di via Leone XIII dall'equipaggio di una volante. Una volta bloccato, il ladro della sedia a rotelle è stato condotto in questura per essere identificato e per gli accertamenti del caso, ed è stato proprio lui a raccontare agli investigatori di essersi impossessato della sedia a rotelle per raggiungere la sua abitazione, in quanto si trova a grande distanza dall'ospedale. Ora si passerà alla fase processuale. Tre discariche abusive sono state scoperte e sequestrate dai carabinieri nelle campagne intorno a Gela, in particolare nella zona di Piano Mendola, e per il proprietario dei terreni è scattata anche la denuncia a piede libero. Durante il controllo dell'area, gli investigatori della stazione dell'arma di Gela, insieme ai componenti del Centro Anticrimine Natura Forestali di Agrigento, hanno individuato tre siti in particolare. Si trattava di aree che hanno attirato l'attenzione degli investigatori dopo un controllo del nucleo elicotteri dei carabinieri di Palermo, in quanto si trattava di terrapieni dove erano stati abbandonati rifiuti speciali pericolosi. Una volta che i carabinieri hanno deciso di controllare le zone in questione, si sono trovati davanti a materiale di vario genere. Rifiuti in cemento ammianto, altri bituminosi e plastici, scarti di lavorazione edilizia, apparecchiature elettroniche, pedane in legno e rifiuti urbani non differenziati. Inoltre è stato anche scoperto un capannone adibito all'allevamento di cavalli. Gli animali sono stati controllati dai militari insieme ai componenti del servizio veterinario del comune di Gela e dagli accertamenti è emerso che i cavalli erano privi dei codici aziendali. In totale le tre aree finite al centro dell'indagine coprono una superficie complessiva di oltre 700 metri quadri e, come detto, sono state tutte sequestrate insieme all'allevamento. Continua l'attività del nucleo di supporto all'Agenzia Nazionale per la gestione dei beni sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, istituito presso la prefettura di Caltanissetta. Lo scorso 3 novembre, infatti, su impulso del prefetto, le forze dell'ordine hanno eseguito lo sgombero di un immobile a Gela, già confiscato in via definitiva e appartenente ad una nota famiglia della criminalità organizzata locale, che continuava ad occuparlo abusivamente. L'operazione fa seguito ad altre attività di sgombero portate a termine nel comune gelese nei primi mesi dell'anno da parte della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che hanno già eseguito operazioni di sgombero di due immobili confiscate ad esponenti della criminalità attiva in quel territorio, nonché di un complesso aziendale riconducibile ai medesimi sempre nel comune di Gela. Il nuovo risultato conseguito nel territorio gelese, dunque, rappresenta un ulteriore e significativo passo in avanti dello Stato nell'incessante azione diretta al contrasto della criminalità organizzata e contribuisce a dare un segnale forte della presenza e dell'impegno delle istituzioni per l'affermazione della legalità in un contesto complesso e articolato come quello di Gela. Un intervento mirato per risanare l'ambiente e restituire valore alla miniera Bosco-Sangataldo nel Nisseno. La regione siciliana, attraverso il Dipartimento dell'Energia, ha dato il via libera alla proposta di progetto di finanza da 10 milioni di euro che consentirà di riqualificare il sito minerario dismesso dal 1989. Nella logica dell'economia circolare, spinta anche dall'Unione Europea, sottolinea il governatore Renato Schifani, questa iniziativa rappresenta un modello virtuoso di partenariato pubblico-privato che non solo eliminerà fondi inquinanti, ma costituirà un'occasione di sviluppo economico che ha anche un valore simbolico, ancora di più a ridosso della ricorrenza della giornata in memoria delle vittime delle miniere il 12 novembre, istituita dal precedente governo regionale. L'intervento, secondo il progetto di finanza presentato dalla società GMRI-SRL, consentirà di smaltire l'ammasso di salgemma presente nell'area da anni fonte di inquinamento, impiegando il minerale come prodotto contro il gelo nelle strade. Una soluzione che potrà creare anche nuova occupazione. 15-20 unità di personale impiegate direttamente e altri 30 nell'indotto. Tra i benefici economici, inoltre, è previsto anche un incremento del gettito fiscale, investimenti per oltre 10 milioni di euro a carico del privato e il versamento alla regione del canone di produzione mineraria. Sul fronte ambientale, contemplati la sistemazione idrogeologica dell'area, la realizzazione di un campo fotovoltaico e la piantumazione di essenze erbore resistenti ai terreni salini. Il definitivo progetto di fattibilità sarà quindi posto a base di una gara d'evidenza pubblica per l'affidamento della concessione. La società GMRI-SRL, in qualità di promotore, potrà partecipare con diritto di prelazione, così come prevede la normativa. Faremo subito una moratoria IRFIS, se non ci sottrarremo dal fare la nostra parte. Sono queste le parole del Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, nell'incontro tenutosi stamattina a Palermo a Palazzo d'Orleans con una delegazione delle associazioni promotrici del corteo contro il caro energia. Sto dalla vostra parte, oltre che come Presidente della Regione, anche come cittadino, e gli uffici stanno lavorando alla moratoria IRFIS. Verrà sospeso il pagamento della quota capitale della rata in scadenza del mese di dicembre dei mutui. All'incontro erano presenti anche il ragioniere generale della Regione siciliana, Ignazio Tozzo, il dirigente generale del Dipartimento delle Attività Produttive, Carmelo Frittitta, e il direttore generale dell'IRFIS, Calogero Guagliano. Ho preso atto della manifestazione che è sintomo di un grandissimo malessere, ha aggiunto il Governatore, che ha promesso massima attenzione da parte del Governo regionale. Il Governatore ha poi anticipato alcuni interventi ancora in fase di studio, come un rimborso sugli aumenti percentuali delle tariffe energetiche e l'incentivo al ricorso a impianti di nuova generazione che possono garantire risparmi grazie a sistemi più moderni e innovativi, per puntare, ha concluso Schifani, a una maggiore autonomia energetica della Sicilia. Ha riportato alla luce dei dettagli nuovi e inaspettati il restauro del reliquiario Ligno, il cui risultato finale è stato presentato nel corso di un incontro nel Museo di Ocesano Nisseno, svoltosi nel weekend, nella sala conferenze dedicato alla memoria di Francesca Fiendaca. Un'opera nell'opera, nascosta sotto strati di colore, così come spiega lo stesso autore del restauro, Vincenzo Musumeci. In tutto mi potevo immaginare, ma certamente non di scoprire queste pitture, che poi sono straordinarie per lo stato di conservazione. Il restauro è stato effettuato grazie al sostegno del Rotary Club Nisseno. Quest'anno, presentando un restauro sempre col contributo del Rotary, si era prospettata l'idea di lavorare anche su un altro restauro. Qui al Museo di Ocesano, esattamente nella cappella maggiore del seminario, avevamo questo reliquiario. Un reliquiario che sembrava sì interessante, ma non così interessante come lo vediamo ora. E infatti questo restauro poi ha lasciato tutti un po' sorpresi, perché abbiamo trovato delle pitture sotto, abbiamo trovato dell'argento, abbiamo trovato veramente un bellissimo oggetto. E quindi per noi è oggi veramente un motivo di soddisfazione, siamo veramente felici che quest'opera arricchisce la collezione permanente del Museo di Ocesano. Il restauro è stato abbastanza lungo e complicato e sono venute fuori anche delle cose straordinarie, delle reliquie, addirittura una pietra del Santo Sepolcro. Per noi è un motivo di grandissimo orgoglio aver fatto quest'opera importante per tutta la città. Nelle nostre vietazioni rientra anche quello della diffusione della cultura, quindi quale migliore occasione di questa. Siamo ben contenti appunto di averla fatta, a maggior ragione appunto per come è venuta fuori. L'oggetto restaurato dunque torna a raccontare una nuova storia grazie a tutti quegli elementi riemersi e che prima non potevano essere visti, ammirati e analizzati. Si mantiene viva la nostra memoria e si restituiscono degli oggetti che purtroppo l'incuria, il degrado rischia di cancellare definitivamente. E poi perché il restauro è quello strumento che ci consente di conoscere la nostra storia ma anche di poter impegnare le nostre professionalità perché ci sono tantissimi giovani la cui abilità manuale e le conoscenze intellettuali devono essere opportunamente utilizzate appunto nel campo del restauro che non è soltanto il restauro pittorico o architettonico ma il restauro come vedete si può esplicare in tantissimi settori anche in quello come abbiamo visto oggi di oggetti, questo è un oggetto riliequario in ligno e quindi è stato un restauro sia della parte ligna che della parte pittorica. Amici Trebi Meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che vedrà lento avvicinamento di una perturbazione atlantica, questa che vediamo nell'immagine, alle nostre regioni in particolare a quelle di nord ovest, quindi giornata ancora discreta ma con nubi in aumento sulla parte nord occidentale. Lo vediamo anche dalla previsione della nuvolosità, ecco queste prime nubi che arrivano sull'Italia di nord ovest attraversano in parte anche il nord est ma la giornata sarà ancora più che discreta, in effetti anche come precipitazioni per il momento poco da segnalare, prime goccioline di pioggia in giornata sulla Liguria centrale poi probabilmente verso sera qualche goccia ma si parla proprio di piovigine andrà a interessare anche parte della Lombardia. Quindi in definitiva giornata nel complesso ancora bella da nord a sud però con qualche nuvole in più a nord a specie diciamo al nord ovest, prime gocce di pioggia in Liguria, qualche gocciolina in serata anche in Lombardia, come temperature e valori diurni intorno ai 20-22 gradi al centro-sud, qualcosina in meno a nord e al primo mattino c'è sì sempre bisogno di coprirsi un po' bene ma temperature minime in lieve, graduale, rialzo. Per sapere comunque nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi nei prossimi giorni consultate l'app gratuita di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta, servizio diurno, al Duomo, via Filippo Paladini Servizio notturno, Del Poggio, via Le Luigi Monaco Servizio notturno, Chi, grazie a tutti. Grazie a tutti.